Ciao a tutti ragazzi, rieccoci a un nuovo video. Oggi vi voglio mostrare come nascondere gli iscritti su YouTube. Andiamo su YouTube, entriamo dentro. Clicchiamo sulla nostra icona in alto a destra. YouTube Studio, andiamo su impostazioni qua a sinistra, canale, impostazioni avanzate, andiamo in fondo. Come vedete io ho il numero degli iscritti nascosto, quindi voi dovreste avere la spunta, la dovrete togliere così nascondete il numero degli iscritti. Io vi consiglio di farlo se avete pochi iscritti, se avete un nuovo canale, perché la gente si iscrive più facile quando vede più iscritti. È brutto da dirlo, però è così. Sugli smartphone non si può ancora fare, ma se proprio non avete un computer e dovete nasconderlo tramite smartphone, dovete andare su Google Chrome, entrare su YouTube tramite Google Chrome, cliccare la spunta Sito desktop sul browser del smartphone. Non entrare tramite l'applicazione, ma entrare tramite il browser Google Chrome. E dovete fare la stessa procedura come ho fatto io qua. Quando voi trasformate il vostro browser come in un computer, lo dovete fare la stessa procedura, ecco. Per questo video è tutto, io vi ringrazio, vi chiedo di seguirmi sul mio canale, Edward Simoni. Un saluto.